Siete alla ricerca di un nome da dare a una bambina? Eccone 5 ispirati a grandi donne. Nilde, ispirato a Leonilde Iotti, prima donna della storia dell'Italia repubblicana ad essere nominata presidente della Camera dei Deputati. Al centro del suo discorso di insediamento, la figura della donna e l'imparzialità politica. Artemisia. In ricordo di Artemisia Gentileschi, pittrice del XVII secolo della scuola caravaggesca, andò oltre i pregiudizi e gli ostacoli per affermare la sua indipendenza. Agatha, in onore di Agatha Christie, scrittrice britannica tra le più influenti al mondo, nota soprattutto per i suoi romanzi gialli, tra i più letti al mondo. Rita, per Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, ricordata anche per aver promosso il ruolo della donna nella società. Giovanna. In onore di Giovanna d'Arco, che visse nel 1400 durante la Guerra dei Cent'anni, convinse il principe Carlo di Valois di essere stata scelta da Dio per guidare l'esercito di Francia alla vittoria. Quale di questi nomi ti piace di più? Scrivilo tra i commenti.